Per quanto concerne appunto i disordini cranio-mandibolari, nel video precedente abbiamo visto le patologie intracapsulari, che sono quelle patologie che riguardano le ossa, le articolazioni e il disco articolare. In questo video parleremo dell'altro capitolo di disordini cranio-mandibolari, che è quello appunto delle patologie extracapsulari, cioè che riguardano tutte quelle strutture anatomiche che sono al di fuori della capsula articolare, e cioè i muscoli masticatori. Ovviamente tutte queste patologie extracapsulari che riguardano i muscoli masticatori, inevitabilmente il primo aspetto cardine, la prima conseguenza che danno, e che però è una conseguenza, se vogliamo, importante, è una masticazione difficoltosa. Quali sono i muscoli masticatori? Velocemente, non posso fare un trattato di anatomia. Abbiamo appunto il massetire, il temporale, l'optericoide esterno e l'optericoide interno. Sono quattro coppie di muscoli masticatori, quattro a destra e quattro a sinistra. E chiaramente i muscoli masticatori, come dice il nome stesso, permettono di masticare, perché la funzione primaria della bocca, dal punto di vista anche arcaico e antropologico, è la masticazione. Quindi se una masticazione non è corretta, la bocca non sarà in salute. E chiaramente, normalmente, la masticazione non è un atto faticoso. Se c'è però una patologia, ovviamente la masticazione diventerà difficoltosa. Alcune parafunzioni, alcune malocclusioni, alcune asimmetrie della mandibola possono rendere la masticazione più difficoltosa. E questo accade soprattutto quando non c'è un'occlusione bilanciata e bilaterale. Cioè, che cosa significa? Quando non si mastica in maniera più o meno simmetrica a destra e a sinistra. La diagnosi delle patologie extracapsulari è una diagnosi clinica che viene fatta visitando il paziente. L'hand fill è positivo e ovviamente alla palpazione dei muscoli ci sarà dolore a carico dei muscoli masticatori. Quello che fanno molti qui è curare il dolore. Ma il dolore non si cura, perché il dolore è un sintomo. Lo insegnano al primo anno di medicina e di odontiatria, quando si fa l'esame di semiotica medica. Il dolore è un sintomo. Va capito qual è la causa del dolore, appunto. Quindi bisogna capire qual è la causa. Certo, gestire il dolore sì, perché il paziente deve stare meglio. Ma poi bisogna capire che cosa ha scatenato questo dolore. Ridurre lo stress è importante, chiaramente. E' importante anche utilizzare dei dispositivi che permettono alla mandibola di non essere incarcerata in determinate posizioni. Ma usare dei dispositivi che permettono alla mandibola di pattinare, di essere libera. Le piste indirette di planas, cioè le placche di planas, sono molto utili in questo caso. Una postura corretta della lingua. Gli esercizi, diciamo, in batteria del mewing sono utili. Lo stretching dei muscoli masticatori, se ci sono queste patologie capsulari, sono utili. Nella fase acuta delle patologie masticatorie, ovviamente, la dieta morbida è importante. E anche il riposo dell'articolazione. Però poi, una volta che si è superata questa fase, il soggetto dovrà ricominciare a masticare cibi corposi per avere una corretta salute dell'organo della masticazione. E il soggetto deve masticare, ovviamente, da entrambi i lati. Molto spesso, le cause più comuni di patologie a carico di dolore, a carico dei muscoli masticatori, sono praticamente, nella stragrande maggioranza dei casi per quanto riguarda l'organo masticatorio, sono praticamente delle condizioni, come abbiamo visto, che rendono la masticazione più difficoltosa. E quindi, praticamente, parafunzioni, una malocclusione o delle asimmetrie della mandibola, che rendono difficile la masticazione. Quindi il soggetto, se comincia a masticare, può mordersi le guancia, le guance può mordersi la lingua, e così via. È chiaro che poi, se uno serra troppo i denti, per esempio, anche in questo caso, ci può essere ovviamente un dolore a carico, diciamo, dei muscoli masticatori, o anche dei traumi a carico del volto. Se c'è un trauma, ovviamente, i muscoli andranno incontro ad un meccanismo di protezione, che è la contrazione protettiva. Posture scorrette, sono diversi i fattori, ovviamente, che possono determinare le patologie extracapsulari. Va compresa qual è la causa e va trattata. Per esempio, un trisma, cioè un serramento dei muscoli masticatori, si può avere anche per alcune infezioni da tetano, per dirvi. Possono essere diverse le cause. Il quadro clinico e poi gli esami diagnostici aiuteranno il medico a capire qual è la cosa migliore. Poi, diciamo, per trattare i sintomi, si utilizzano, diciamo, anche, se necessario, dei farmaci antidolorifici. Si possono anche utilizzare dei mio rilassanti, cioè dei farmaci che vengono, appunto, come dice il nome stesso, a rilassare i muscoli. Però poi, chiaramente, bisognerà agire sulle cause del dolore. Nel prossimo video andremo a vedere, diciamo, una serie di problematiche, come la nevralgia del trigemino, poi in un altro video vedremo quella del glossofaringeo e tante altre problematiche che, diciamo, vanno in diagnosi differenziale, più che altro con i disordini cranio-mandibolari. E quindi il medico deve essere praticamente in grado di distinguere, di capire se il dolore, il quadro clinico del paziente, è imputabile a problematiche dell'organo della masticazione o è imputabile, diciamo, a queste altre problematiche. Ti ricordo che le informazioni che trovi nel video sono delle informazioni divulgative, informative, perciò, se hai di dubbi, rivolgiti sempre dal tuo medico. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace ed iscriviti al canale. Condividi anche il video con altri utenti per far crescere sempre di più questa community e per renderla sempre più usile per tutti. Ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!